Non conta più niente il primo posto della stagione regolare, adesso nei play-off si ricomincia da zero e quando parliamo di una partita singola come finale, come il V-Day, è una partita molto speciale dove non c'entra niente il lavoro di tutto l'anno, quindi noi non dobbiamo pensare per quello che è successo durante la stagione, dobbiamo concentrarsi sul nostro gioco soprattutto, il nostro atteggiamento in campo per questa partita. Macerata, l'avversario è andato a gara 3, quindi si spera sia un pochettino più stanca, però sicuramente avranno l'entusiasmo di questa vittoria con Cuneo, quindi ve li troverete caricati a mille. Assolutamente sì, poi quando si parla di una finale l'adrenalina ti fa dimenticare tutta la stanchezza e tutti i dolori piccoli, quindi lì fondamentale sarebbe a riconoscere i momenti importanti nel gioco, a salvare qualche pallone in più, a giocare bene in tutti i fondamentali perché non servirà solo un fondamentale per vincere una partita di questo genere, neanche come una squadra di questo tipo come Macerata, quindi possono succedere tante cose, è importante per noi stare tranquilli e lavorare bene gli ultimi giorni e quando entriamo in campo essere pronti ai sacrifici, come sempre l'ha fatto la squadra negli ultimi anni. In questi ultimi allenamenti come ha visto i suoi ragazzi? Tutti lavorano bene, tutti sono concentrati, ovviamente in questo punto della stagione non possiamo essere al top perché dopo più di 50 partite giocate iniziano i dolori, iniziano i problemi, però non possiamo e non l'abbiamo mai fatto cercare le scuse, noi siamo pronti per giocare la finale. Tornando all'avversario, Macerata anche in Champions ha cambiato qualche volta anche le carte in tavola dal punto di vista tattico, quindi una squadra da quel punto di vista lì è anche temibile per questo? Ma hanno a disposizione tanti giocatori e sono in grado di cambiare anche il sistema di gioco durante la gara. Come si è visto adesso, gara 3 contro Cuneo, hanno giocato con un sostetto completamente diverso, che fra l'altro non è stato così male, in senso sembrava che funziona bene e da tanto tempo. Avendo 3 schiacciatori, centrali forti, 3 opposti, è difficile a prevedere esattamente che scelta faranno per il V-Day, però in ogni caso questo non sarà fondamentale, anche noi abbiamo i nostri giocatori, i nostri sistemi di gioco, e più importante sarà chi sarà in grado di applicare meglio la sua pallavola. Nota simpatica per chiudere l'intervista, in un giorno al Trentino Volley Point hanno bruciato mille biglietti per i tifosi trentini, quindi ci sarà un bel tifo caldo che vi sosterrà. Il pubblico nostro è sempre stato molto partecipe, ha seguito la squadra ovunque, siamo andati a giocare e questo ci fa molto piacere. Noi abbiamo bisogno del loro aiuto perché si sente, i giocatori lo sentono e lo vedono in palestra. Spero, come è stato in tante occasioni anche a Bolzano, qui a Trento, anche a Milano, spero che venissero più di mille che così ci aiutino, però noi lavoriamo sempre ogni giorno sodo per dare anche qualche soddisfazione al nostro pubblico, quindi insieme possiamo farcela come sempre.